Cosa vi propone questa settimana Calcio Passo sulle nostre frequenze HTTP? Che cazzo ho detto, frequenze HTTP, ma che protocollo semmai! Consueto punto sul calcio mercato ogni giorno analizzeremo quelli che sono i movimenti di mercato principali delle squadre che amiamo. Sondaggio di giorno, ogni giorno vi faccio una domanda un po' bislacca e voglio vedere che cosa ne pensate. Gameplay FIFA 15. Stiamo seguendo il campionato del Genoa, un Genoa modificato nelle maglie e con lo sponsor Calcio Passo. Attualmente siamo quarti o quinti in classifica e stiamo per raggiungere la metà del campionato, quindi per un po' ci sarà il calcio mercato. Quindi vi aspetto anche dei buoni consigli da quarte poste. Inter-Roma amichevole. C'è stato richiesto di giocare una partita Inter-Roma amichevole con le nuove maglie, per cui eviteremo la nuova maglia dell'Inter che poi è la vecchia maglia dell'Inter e quella storica maglia dell'Inter e la nuova maglia della Roma, quella con le spalline di un rosso un po' più scuro rispetto al sotto. Compleanno di nonna. Mia nonna ha fatto 91 anni e per cui io sono andato con la GoPro alla festicciola, gli ho fatto un po' di domande, siccome lei pure è mezza sorda, io gli chiedevo una cosa e lei mi rispondeva un'altra, per cui è uscito a fare una cosa un po' divertente. Mia nonna ha cresciuto, se lo merita, si merita di esorbire su YouTube e diventare un personaggio famoso. Festeggiamenti per i 2000 iscritti. Eh sì ragazzi, siamo oggi, mentre vi parlo siamo a 1990 e quando andrà in onda il video probabilmente avremo superato il 2000. per cui, che cosa consistono i festeggiamenti? In pratica noi mangeremo, probabilmente mangeremo natos o patatine e berremo del prosecco e voi ci guardate, ci guardate, partecipate, commentate quello che vorrete, ma poi quando faremo 10.000 organizzo poco una cena e vi invito a tutti quanti. Grazie.